Il progressivo invecchiamento della popolazione impone una sempre maggiore attenzione al monitoraggio dello stato di salute, soprattutto nel caso di persone fragili e un conseguente impegno non sempre compatibile con i ritmi di vita odierni. Grazie all'intelligenza artificiale e alla computer vision, oggi ognuno di noi può monitorare in tempo reale il proprio stato di salute attraverso uno smartphone o un pc e condividere le informazioni con medici e sanitari. Il software Hero Health Monitoring ci permette di rilevare con un clic e pochi istanti di attesa dati accurati sulla frequenza cardiaca e respiratoria, sul livello di ossigenazione del sangue e la pressione arteriosa, raccogliendo anche informazioni sul nostro stato emotivo. Grazie a tutti.